Marco, un giovane professionista, si trova sopraffatto dal caos della sua vita quotidiana. Ogni giorno è una corsa contro il tempo, tra riunioni improvvise, email che si accumulano e scadenze che sembrano moltiplicarsi. La sensazione di non avere mai abbastanza ore nella giornata lo porta a sentirsi stressato e frustrato, incapace di trovare un momento per se stesso. Decide di cercare consigli per migliorare la sua produttività e organizzazione personale. Inizia a leggere libri e articoli su come gestire meglio il tempo e ascolta podcast di esperti in materia. La sua determinazione a cambiare lo spinge a cercare soluzioni pratiche che possano aiutarlo a riprendere il controllo della sua vita. Inizia implementando la tecnica del time blocking e la regola dei due minuti. Dedica specifici blocchi di tempo a diverse attività, evitando distrazioni e interruzioni. Inoltre, adotta la regola dei due minuti, completando immediatamente le attività che richiedono meno di due minuti, liberando così la sua mente da piccoli compiti che altrimenti si accumulerebbero. Sperimenta con varie app e strumenti digitali per la gestione delle attività e del tempo. Scarica applicazioni per il monitoraggio delle abitudini, calendari digitali e strumenti di gestione dei progetti. Ogni nuovo strumento diventa un'opportunità per migliorare la sua efficienza e scoprire nuovi modi di organizzare le sue giornate. Affronta sfide nell'adattarsi ai nuovi metodi, ma persevera con determinazione. All'inizio, l'adozione di nuove abitudini richiede uno sforzo considerevole e qualche volta si sente tentato di tornare alle vecchie abitudini. Tuttavia, la sua volontà di migliorare lo spinge a continuare, superando gli ostacoli e adattandosi gradualmente ai cambiamenti. Infine, Marco raggiunge un equilibrio tra lavoro e vita privata, sentendosi più in controllo e soddisfatto. Riesce a dedicare tempo di qualità a se stesso e ai suoi cari, senza sacrificare la produttività lavorativa. La sua vita, un tempo caotica, ora scorre con una nuova armonia, permettendogli di affrontare ogni giorno con serenità e fiducia.